Buongiorno, Orchideria di Manosaro, Orchideria della Medicina per l'Anima. Vi ricordo sempre il nuovissimo libro, Orchidestro dei personaggi, quarta edizione, 572 pagine. Lo potete trovare o qui all'Orchideria o su Amazon, a tre grandi pregi, questo poco, è semplicissimo, l'ho scritto io. Allora, oggi voglio presentare il nuovo listino 2021. Questo è quello delle zattele e questo è quello delle piante in vaso. Allora, abbiamo deciso di farlo così questa volta. Praticamente, la prima colonna genere, specie, i prezzi, secondo le varie adulta, grande, molto grande, esemplare. La provenienza, da dove viene, oppure che ibrido è. Per esempio, non so, qui sono tutte provenienze, sono tutte botaniche. Vediamo un po'. No, queste sono le zattele. Sì, queste sono quelle in vaso. Per esempio, la King of Taiwan, Bryce Canyon, per Pulp e Ruby. Poi qui c'è luce, temperatura e periodo di finitura. C'è una leggenda, O vuol dire ombra, L luce, LL tanta luce. Caldo, temperato e fresco, C, T, F. Epoca di periodura, primavera, estate, autunno, inverno, P, E, A, I e ripiorente, vuol dire R, che fiorisce più volte all'anno. Se è profumato o meno, uno strisca vuol dire che è profumata, due strisca che è molto profumata, tre strisca che è profumatissima. Quarta casella, la dimensione del fiore. Allora, la quinta casella, che pensavo che non ci stava, ma adesso vedo che ci sta, la metteremo. Metteremo un numero di fiori per pianta. Vorrei mettere tante altre cose, ma dopo non ci sta più nel foglio. Questa sarà in listino, cioè, da oggi è sul listino, è sul sito. Niente, c'è la leggenda, appunto, per capire bene, perché se no qui non riesco a mettere su tutti i nomi, per cui abbiamo fatto una leggenda a parte. Allora, queste due foglie qua sono quelle delle zattere e questi tre qua sono di quelle in vaso. Questi tre, c'è un po' quello che c'è, insomma, più o meno. Dopo magari c'è qualcosa che non c'è, ma... Oh, domani c'è la poesia di Pasquale, quella commovente. Ok. Ciao a tutti.